Musica 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 Pagli adesso può puntare al limite In seguito, Pagliamucci con il destro Che parata Randino Randino, che risposta di Randino, tanta ampia, vediamo se tenterà il tiro, fa così, che tiro fantastico, ma una parata, una respinta altrettanto fantastica di Randino, risposta da campione, buffo plastico di Randino, che forse si, che scarica a sinistra per Carlucci, ancora il 7, conclude, come un gatto, Randino, dice di no e mette in calcio d'angolo, continua per l'11, apertura per Comitangelo, in area di rigore, gran parata di Randino, che evita il raddoppio del Barletta, grande gioco a 2 tra Belladonna e Comitangelo, grande risposta di Randino, sta di cola, poi Forgione va in profondità verso Crudele, che sembra essere in vantaggio, ma Randino, qui vola praticamente Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Va il numero 8, e dà una bella palla per Belladonna, che non arriva su questo pallone, esce bene Randności, di prima, va la cross in area di rigore, un bel cross in area con l'area spinta da parte di Randino. a diviare in angolo un tiro insidiosissimo Manizia ancora Luci prova direttamente dalla bandierina respinge con i pugni Randino che lascia scorrere quindi c'è Zocco a pallone in avanti poi l'uscita dell'estremo difensore Randino della Ceda Savio che blocca la sfera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti